Ah sì, poi ho cambiato, ecco, carte nuove, no, questa è una carta nuova, ok, ho cambiato This Day in Full Stroke con Test of Talent, perché alla fine si cacere, io te ce le ho le risposte, non era così fastidiosa, e White Weenie, anche lì This Day in Full Stroke non faceva niente lo stesso, mamma mia, ok, Trampo, beh, Trampo non lo blocco, no? Oddio, c'era un argomento per bloccare in modo che potessi fare Sculptor Merchant, però Ok 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 Vabbè, diciamo che è uscito fuori dal raggio di... come si chiama? Di Mithook Massacre Però noi di rimossa ne abbiamo anche altre, adesso Basta pescarle Tesoro Ok 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 Trebbe essere divertente fargli Test of Talent su Homestead Courage ne ha sicuramente un vagone, però forse mi spaventa di più questo Ancestral Hunger va bene sai che forse se gli faccio test of talent su sto schifo che lui spera che siano una terra e una creatura Guiding Voice mi piace come conterrata secondo me questa roba che fa Learn è meglio togliergliela Emanuele Duormstit Courage è un Reckless Impulse mi sa che lo prendo ok quindi facciamo resistere un paio di turni probabilmente così tanto lui non ha quello che dà Trampol quindi va bene anzi in realtà spero che giochi questo e che giochi Creature sì va bene Creatura e aia quello che dà Trampol ok beh non sono morto poi questi sono 6 danni posso andare a no scusa 7 danni posso andare a 1 o a 3 beh ma ponendo che tanto fuck non posso fare Blood in the Snow dopo se vado a 3 no non posso fare Blood in the Snow quindi vado a 1 no però così di modo che posso fare altri 2 ragni ok 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 iniziamo a metterla giù ragni se pesca di nuovo quella che gli dà Trampol vabbè anche qui l'unico modo in cui puoi vincere va bene va bene va bene bravissimo così ti voglio 2 tra ok giro dai e giro forza no giro ci pensa cosa stai pensando vuoi mettere un po' di counter ok bish nice c'è la vie continuo a scolare perché va bene così no non lo so forse non è serata facciamo che ci riproviamo un'altra volta no dai meno del 50% a sessione non lo accetto soprattutto perché non sono matchup brutti sono solo vabbè loro che hanno una fortuna un po' sfacciata test of talent quello di learn secondo me va bene perché hanno gli fanno un danno hanno quella che fa un danno hanno mascot exhibition c'è tutta roba fastidiosa mirror che fatica oggi vabbè test of talent nel mirror è più forte non è un mirror è una roba strana ok ovviamente prendo le scienze arrivano giù 800 terre ok sì eh vabbè non ci posso fare niente ok questo era meglio se lo tenevi per lol però magari ne ho un altro ah yeah spellbinder va bene vabbè ma questo spellbinder qui cosa si prende una lol gli metto giù un'altra gli metto il parante no va bene ok ok sì sì questa roba mi uccide tutto il board però essendo quattro creature poi posso di nuovo fare i ragni quindi va bene ciò comunque non va malissimo mi took massacre oh ok containment breach c'è l'unico modo con cui mi uccide mi sembra questo quindi containment breach ci sta stesso ragionamento di prima se me li uccide tutti posso mettere giù altri ragni però è fermo tre mana vediamo perché madonna ok ma solo mi took massacre va bene a questo punto iniziamo ad essere vicini no grazie a tutti 5 mana cos'è che hai non riesco a capire 1, 2, 3, 4 spellbinder spellbinder va bene aspetta però pesco non riesco a capire ok 4, 5, 6, 7 posso giocare l'altro lol e un po' di tesori qui facevano comodo però sparavamo giù valcone containment breach e poteva anche concedere chi di lol ferisce di lol perisce mi sembra giusto attacco con i due ragni lei la mia oi 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 o i due ragni blocca cioè lui sicuramente ce l'ha un blood in the snow si infatti e preferisco togliergli dal cimitero lol e se lui attacca con i due ragni io animo blocco blocco ok no sbagliato animo blocco blocco e mi muore finca vabbè sbagliato si boh mi muore però tanto c'è un'altra quindi va bene in realtà è 4d chess perché così riesco ad avere il tesoro e se invece giocavo anche quello lui magari non attaccava io non riuscivo ad avere il tesoro vedi c'è c'è la logica tesoro ciao il voters 2 0 l'u de 2 2 Fuori LOL e fuori Spellbinder Non so se giocare un Valky per vedere che cosa è in mano Questa la togliamo Sì più che altro perché sennò ho usato malissimo il mio mana Quindi vediamo Tanto Blood in the Snow non può giocarlo Mythook Massacre ne ha già visti due Non succede niente Ah ma va anche lui gioca a questi Giusto Grazie a tutti Grazie a tutti Destroi all creature with mana value to or less costa 6 Ok quindi ho un turno per stare qui a gigiare Scelta discutibile ok O sono brutale e gioco l'altro Valky Sì sì dai Tanto non ho i tesori quindi Chamblingast questa Che fatica questo Platino 1 Dai fatemi finire un attacchetto in più di quando abbiamo iniziato Ah è stato interessante perché appunto ci sono questi nuovi mazzi Qui contro non sa bene In realtà Quello bianco rosso aggressivo non è che ci fosse stato tanto da giocare diversamente O senza terra Il test of talent lì secondo me non andava male Cioè la scelta è tra quello con Learn e quello con Trample Forse quello con Trample era Sì forse avrei vinto con Cioè anche con quella mano del cavolo Se riuscito a vincere Vabbè Qui è un match tra gentiluomini Va bene I mirror sono al 50% Ogni tanto capitano Io non ho una mano forte contro il mirror Ok Ahia Contro il mirror le terre non possono mancare E soprattutto magari facciamo test of talent su Interessante Magari riusciamo a fare test of talent su Blood in the Snow E quello è GG di solito Anche un Valky Un Tibalt risolto è GG di solito Boh Vediamo un po' cosa fa lui Fa pescare Fa pescare Ok 3-6-7 Va bene Ok Vabbè Questa non conta Dai una partita C'era per fare una partita contro Monoverde Dove lui è sul play Sembra che vinca Io faccio Blood in the Snow Questa partita ideale Poi With it Ok Ok First drop Second drop Terra Se non pesco terre Perché Come abbiamo visto Succede che non pesco terre Red green Uh L'ho chiamata Vediamo No Forse è meglio questo Perché Voglio avere le terre Mentre il mono tesoro Forse è utile Forse no Feed of Luin Subito Ok Boh E rimaniamo open Per Deadly Dispute Ah Questa è una versione Del rosso-verde Non snow Quindi senza Uff Senza la battaglia Mi sa che l'hai fatto Cioè Terra O Ezekaceriot Che non so se ce l'hai in mano Quindi non posso prendere Ovviamente Ovviamente Ok Qui facciamo Mercante Lui qui di fastidioso Può fare il planeswalker Però di giorno Non c'è Sì è forte Non è fortissimo Se mi gioca due Cratturine Sono più contento Non c'è Ok Ok. Beh, trample non ha senso bloccarlo, quindi niente. La domanda è... Ah, che palle! Perché non leggo? Vabbè, comunque non potevo farci niente, non leggo mai queste carte. Ce l'avrà SnakeSkin's Veil? Questa è l'unica domanda che devo farmi. L'alternativa è fare Double Spell. Se faccio Double Spell, lui diventa un 6, quindi non riesce a uccidermi tutti e due i mercanti. Quindi forse in questo caso facciamo così. Ok, bravo. Molto bene. E... dammi un'altra creatura. Forza. Così. Facciamoli usare il suo SnakeSkin Veil. Ah, non ce l'ho. Ok. Non hai SnakeSkin Veil, hai preso un mana rosso per... Per niente. Ok. Perfetto. Mmm... Onyx. Ci manca solo che ha qualcosa con rapidità che mi attacca. Voglio sentire storie. Royal Eruption. Ok, beh, quello ok. Tovolar. Ok. Tovolar Tapped Out è un bellissimo bersaglio per Agram Owling, o no? Grazie a tutti. Dai, io con ste creaturine. Oddio, forse era meglio tenersela, la... Queste varie mental sciences, così gioco una spesa sicuramente anche il prossimo turno. Perché quando diventa notte lui è fastidioso. With it, forza. With it, with it. Altro tovolar. Ok. All right. Okay. Grazie a tutti. Lo fa diventare un 4-4 che prende... Sì, vuol... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o tre di fare Mascot Exhibition. Non so se è la cosa giusta, però. Questo Test of Talent è di un gusto sopraffino. Test of Talent posso avere questo come bersaglio, ce ne avrà un'altra nel mazzo. Oppure c'è The Festival qualcosa che guarda le prime 6. Beh, diventa un 5. Ah, è anche... Uh, è anche tappato il feed off ruin, quindi secondo me lo puniamo adesso. Vai, bravo. E qualunque combat trick gioca glielo counteriamo, quindi benissimo. Sufficiente, no? Sì, perché tanto instant, qualunque instant voglia giocare, counter. Grande 1 per. Niente counter, ok. Cosa che torno dal cimitero, secondo me ruin non ne ha, quindi tanto vale. E attacco per 1. Ahia! Ahia! Cos'è che ha in mano? Non riesco a capire. 6 mana. Giocato una creatura al turno. Vrenen 7. Che muore subito, quindi vabbò. Ok. Sure. Attacco con questi due lei. Di nuovo, tanto qualunque istantabile o test of talent. E attacco con questo lui, perché se para, poi faccio un... Oddio, mi took massacred a 2, non è che mi faccio impazzire. Ok. 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 Uh, spicy. Allora direi che adesso non gioco questo, perché se voglio fare Blood in the Snow... Giusto? Sì. Vai. Ecco, questo è stato un esempio in cui era più comodo avere Disdainful Stroke. Però ad esempio nel match White Red che abbiamo perso prima, lì di Disdainful Stroke non serviva a niente, no? Quindi un po' così. Roid Eruption. Roid Eruption. Roid Eruption non gliela counter, non serve... Uh, Mega Spice, questo uccide quello, lui scarta 2 e io ritorno qualcosa. E poi uccido sta cosa. Questo è l'unico Prince Walker fastidioso in rosso-verde. Se mi farai 5 danni, forse. Sì, devo ricordarmi di cercare di attivare... contare bene il money, come sempre lo conto male. No, vediamo. Allora, se questo sono 5, 6, 7. Quindi devo pagarlo con almeno uno di quelli. Aspetta, facciamo così. In realtà è più semplice di quello che sembra perché lui non ha lasciato paranti, quindi boh. 1, 2, 3, 4, ok. Tutto! Target Opponent. Mi riprendo lezioni. Spacco il token. Ehm, passo. Passo. Adesso lo picco con questi, non finiamo più. Ok. Ok. Ok, adesso che non c'è più il field of ruin, va bene. Posso distruggermi un tesoro. Fastidioso perché può distruggermi anche il massacre qua. Giusto, sì. Non c'è più, non c'è più, non c'è più. 6, 12, 18. Un clock da 3, va bene. Peggio che può topdecare Vrenen7. Non abbiamo la risposta. E passo. Ho giocato, sì, ho giocato questo, quindi ancora giorno, ok. Lui se non gioca niente diventa notte, però è meglio per me se è notte, secondo me. Lui ha 12, 4, 8, 9, 10. Lui non ha giocato spell, quindi lui sì. Flippa. Forza, with it, dai che è andata. Cosa vuoi topdecare? Topolar. Ah, forse ho vinto. Per setta contro... Missed lethal? No, però dai faccio... Gioco light twitch e gioco questo da 1 e ci diamo così. Eh, scusa, non ho contatto, dai non ti arrabbiare, non è... Non ho fatto posta. Quando le mie creature muoriono, giusto? You control, ok. Questo. Forza. O... 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 Ok, platino 1 e mezzo, giusto? Sì. La corsa a mitico continua. Ciao. Ciao. Grazie mille